bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono ovviamente pikachu oggi siamo tornati su willow house ragazzi se spoliciamo spoliciate più con più non posso iscrivetevi al canale perché ho saputo che siamo a 7 iscritti dovete iscrivervi subito al canale spoliciare che andremo a fare pure prova a non ridere ciao quindi dovete iscrivervi attivare la campanella e lasciare un bel pollice insomma aspettate che sto facendo colazione con il tutto lo che si vede perché ora dobbiamo andare al mare di mattina ragazzi come ben sapete ho salvato la fatta ora devo salvare il falco che sarà il mio amico quindi si va stanno più difficile ho sblocato quel falco che è troppo bello ragazzi ragazzi mi state dando forse no ci sono stati messi lì e proviamo tutta l'armo per tutta l'armo ok io questi li faccio per un bel schifo no 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 ragazzi ho sblocato pure questa spada come ben sapete questa spada vedete quella mi è sudata ora in pratica 8 e 9 ancora la ci devo arrivare a 200 ragazzi ma vaffan vai oh mio dio provalo gratis no si deve pagare mi ha detto una bugia a sto coglione chiudi ok allora abbiamo 400 ok sta facendo notte non si vede niente i missili ora però non lo so ma sì che è tutto mai questo vede nel mentre cammino non possogga ora perché non c'è nessuno allora in pratica questa spada vi ho già detto come non c'era ora che ricominciamo ora ricominciamo allora allora uso questa spada c'è la questa è la spada della torre ok e vi ho spiegato tutto e c'ho tre colpi ora finito i colpi ci sono la ricarica della squadra dovete la far ricaricare a tutto della magia auto principessa mi aiuta allora voglio ottenere questi che sono molto ma no sono fortissimi ho spiegato la mia ok ok no 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 non posso chiedere io non ci posso chiedere che cavolo è sto video pubblicità sto registrando non voglio pubblicità poi cos'è sto al horse mobile che fa proprio schifo per questo non lo volevo la pubblicità per questo allora se non ci siamo capiti ok no dai questo è impossibile però un video 30 corone è fatti di 30 secondi però io ci tengo la tetta corona quindi aspetta è un gioco di stru questo è un gioco di stru è un gioco di stru Ok, ho di 30 corone. Cosa è di 30 crinic se c'è per io? Allora, 5 stelle posso potenziare ancora. Ho 30, però... Non ho 5 stelle, ma ho 30! 30, come si chiama? Oh, la la, salta! E a questo servono! I soldi a un mille! Un altro video. Oh, in tutto il gioco! C'è il video. C'è. Ragazzi, iscrivetevi nei commenti se è pure a voi. Vi dà fastidio il video. C'è la pubblicità mentre giocate. Ok. Questa è corone! 24. È della madonna. Salta 9. Devo ottenerla. Apri. Maronna mia, però. Maronna mia. Eh, lo devo dire. Ok, qua due casse. Un'altra corona. Ovviamente, un'altra corona. Ti posso aprire due casse, comunque. Non è corone. Mi hanno fregato, mi hanno derruvato, comunque. Quando le ciance, apriamoci le casse, sperando di trovare, ovviamente, un nuovo personaggio. Ma è che un'ora è un'ora. Ehi! Termina ora. Ah! Come un video lo posso terminare? Ovviamente. Sempre lo stesso video. E poi... E poi che è albano. Il pinguino! Che carino! Inizia ora. Devo giocare. Il pinguino! E sembra molto serio, però. Non c'è che scherzare. Di certo sta dicendo... A parte gli scherzi! Cosa sono? Palla di neve! Che carino! Le palla di neve! Cioè, sono quelle che lanciano appuntite, però lui lancia le palla di neve. A posto di quelle cose... Porca miseria! Porca miseria! Cosa o qui sono? non c'è... ma le odio le pecore in questo gioco in questo gioco fanno proprio schifo banzai dai finitati per quella cosa no si ho finito ma non la posso buttare? si si che danno ma non la posso buttare? ma non la posso buttare? ma non la posso buttare? i miei fratelli sono dei pezzi di merda sono dei pezzi di merda si ho scattato no 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 un video come ho chiesto un video ma non c'è questa camera vabbè spero che i video vi sia piaciuto ragazzi lasciate un bel pollice su e iscrivetevi al canale attivando la campanellina appena perdevi altri video ciao